buongiorno a tutti vi presento sono Beretta Diego e come al solito chi mi segue qua in questo in questo mio canale troverà tutti i miei business uno di questi che vi voglio proporre oggi e che da un po di tempo che lo studiavo e lo guardavo da un'altra persona che comunque lo sto facendo da più di un anno due anni quasi si chiama bondora è un sito dove si può guadagnare lasciando giù i soldi prestando soldi alle persone e non siamo noi a prestarle ma è un robot automatizzato che smista i prestiti che dà ai proprie persone qui vuol dire uno può mettere tranquillamente anche 30 euro non è un obbligo di mettere 2.000 3.200 e in base a quello che mette ovviamente avrà la percentuale del 7,6 per cento annuo in pratica è per chi ha vuole farsi magari un gruzzoletto da tenere da parte questo questa piattaforma è davvero fantastica anche perché uno quando uno vuole prelevare può tranquillamente prelevare tranquillamente dico tranquillamente anche perché una volta che preleva il giorno dopo dovrebbe avere sì ce l'ha già subito 2 a differenza di altre piattaforme che magari pagano di più un percentuale arrivano che 10 un 12 per cento bondora da subito il proprio capitale anche se l'ha già prestato fa niente anche può già ritirarlo comunque quindi se potessi te su 200 euro che in questo mese ti occorrono perché ti occorrono magari hai delle spese o delle urgenze o vuoi tirarti via da bondora nessun problema te richiedi quei 200 euro lì anche se li hanno già sono in giro in prestito fa niente buona ora te li da tutti allora è semplicissimo registrarsi vi lascio qua sotto un link dove tranquillamente una volta registrandovi avete in pratica 5 euro di bonus che al vostro primo deposito che fate che anche fate minimo 30 euro o anche di più vi danno 5 euro che potete prelevare cosa vuol dire quei 5 euro lì sono vostri guadagnati gratuitamente e le potete prelevare ok intanto vi saluto vi lascio qua sotto vi lascio qua sotto sotto questo video qua vi lascio il link da lì potete tranquillamente andare a vedere a registrarvi gratuitamente al sito ok grazie intanto vi ringrazio a tutti e buona giornata a chi mi segue ciao